Ti sei mai chiesto la formula esatta per calcolare la nascita dei funghi? Piovosità, altitudine, esposizione al sole, tipo di foresta, sono tutte variabili che cerchiamo di incrociare e comprendere da anni senza successo. Ma cosa succederebbe se un sistema calcolasse per te tutti questi dati dicendoti in un istante se i funghi stanno nascendo davvero? Grazie alla tabella crescita e con intelligenza artificiale, la nuova incredibile funzione integrata sull'applicazione Geoticket, potrai sapere sempre, in tempo reale, le vere probabilità di crescita in ogni area d'Italia. La nostra app Monitor prevede la crescita dei funghi con una precisione mai vista, dalla piovosità al tipo di foresta, dall'altitudine all'esposizione al sole. Incrociamo milioni di dati per fornirti livelli di crescita attuali e futuri, regalandoti la migliore uscita funghi di sempre. Usa il potere della nostra tabella crescita e con intelligenza artificiale per essere sempre al posto giusto nel momento giusto, con una precisione matematica. Scopri quindi se stanno nascendo con giorni di anticipo. Scarica subito l'applicazione e utilizza fin da subito la nuova mappa intelligente.